Ciao, sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. È iniziato il serale di amici di questa edizione. Io vi dirò la verità, non lo seguo tantissimo amici, ogni tanto mi capita di vedere qualche video, qualche esibizione, ed ero rimasto veramente tanto colpito da questa ragazza che si chiama Martina e ha una voce incredibile. Io credo che rispetto anche agli altri concorrenti in gara sia veramente, veramente su un alto livello, superiore secondo me, rispetto a molti altri, ecco. E non ho mai visto questa esibizione, ho visto che è l'ultima che è stata pubblicata. Qua canta Imagine, chiaramente canzone di John Lennon, e non so veramente cosa aspettarmi, quindi l'ascolterò per la prima volta insieme a voi, dopodiché tornerò da capo e cercherò di dare qualche dettaglio di analisi di tecnica vocale. Prima di iniziare vi chiedo però per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi, se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Ringrazio anche lo sponsor di questo video, SuperProf, ma ve ne parlo meglio dopo. Andiamo a sentire. Imagine. Imagine there's no heaven It's easy if you try And no hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today You may say I'm a dreamer But I am not the only one Maybe someday, someday you will join us And the world And the world Will be as one Will be as one Wow, ma che brava. Ebbene Martina, grazie. Mi costo i tuoi pari, Michele. Che brava. Maria, visto che abbiamo iniziato con la polemica, continuo anch'io con la polemica. Hai fatto i complimenti perché hai iniziato a cappella Ed era giusto farglieli. È così brava che quasi non ha bisogno della parte strumentale che l'accompagni. Non ha nemmeno bisogno, per sottolineare il suo talento, di screditare quello degli altri. Non è screditare. Non è screditare. E mettere tutti nelle stesse condizioni. Non è così. Non è così. Vabbè, queste sono polemiche, chiaramente, da reality show che non mi interessano, assolutamente. Mi interessa come ha cantato. Ha cantato in modo, ha cantato in modo pazzesco. È stata veramente bravissima. Lei ha un timbro soul. Assolutamente. Al 100%, infatti, anche altre canzoni che ha portato, visto che aveva portato a Retta Franklin. Insomma, comunque, si vede che è molto legata a quella tradizione, ok? Soul, assolutamente. È una voce molto black, molto profonda, morbidissima, non so come dire. È veramente ricca di frequenze basse, molto avvolgente, anche molto piena. È un suono con molto calore e ha una capacità di salire in acuto con una facilità impressionante. Lei veramente, tecnicamente, è bravissima. Bravissima. Io non so se non vince lei, non so veramente cosa aspettarmi, davvero. Perché, ok, ci sono altri, a mio modesto parere, chiaramente, non vuole essere la verità, è il mio parere. Ci sono altri che, secondo me, sono validi, come per esempio Holden, va bene, bravo. Non ricordo neanche gli altri, sinceramente, però li ho ascoltati in maniera un po' sommaria, diciamo, non al serale, ma nelle esibizioni precedenti. Nessuno di loro mi ha fatto volare via, perché tutti hanno comunque delle carenze tecniche. E ci sta, sono lì per imparare, ci mancherebbe. Ma lei è veramente, tecnicamente, già perfetta. È già una cantante professionista. Io non so come potrebbe non vincere. Veramente, veramente brava. E tecnicamente perfetta perché? Per tanti motivi. Andiamo a sentire. Da capo. E poi ve lo dirò. Scusate l'interruzione, la mia analisi riprenderà tra un minuto, ma ci tenevo moltissimo a ringraziare lo sponsor di questo video. Diamo il benvenuto sul canale a SuperProf. SuperProf è una piattaforma pazzesca che mette in relazione allievi e insegnanti con lo scopo di condividere competenze, passioni ed esperienze. Il servizio è attivo in oltre 45 paesi in tutto il mondo, con milioni di professori, iscritti e attivi, decine di migliaia di allievi ogni giorno, in più di 2000 materie. Ti interessa un corso di canto? C'è. E troverai tanti insegnanti qualificati in base alla tua zona. E ci sono anch'io tra questi. Canto moderno, canto lirico, corsi di chitarra, elettrica, acustica classica. Corsi di qualsiasi tipo a livello musicale e non solo. Perché troverete professori di matematica, italiano, filosofia, ma anche corsi che vanno dal songwriting alle arti marziali. Qualsiasi cosa vi venga in mente su SuperProf, c'è. E se vi iscrivete al sito con il mio link personale che trovate in descrizione, avrete diritto a un super sconto sul servizio. Se invece siete professionisti, potete iscrivervi gratuitamente sul portale e offrire le vostre lezioni. Inizia a super imparare con SuperProf. Ok, già nella prima frase, in queste prime due frasi, c'è già tutto. C'è la gestione delle dinamiche, la gestione dei colori della voce. Come sentite, non è piatta, non è monotona. Colora le frasi con un po' di aria, appunto con la dinamica piano e forte, con questi piccoli melismi che aggiunge alla fine delle frasi, che la rende ancora più soul, questa sua interpretazione. E interpreta benissimo, gestione del fiato perfetta. Mi piace molto come gestisce le pause anche in questa parte iniziale, in cui lei è da sola. Cosa veramente non facile, probabilmente se data la tonalità in qualche modo in cuffia, probabilmente, non si vede, no, si vede un pochettino, comunque che ha gli in-ear, come tutti anche gli altri concorrenti, si sarà data la tonalità per rimanere appunto in posizione. Però poi ha gestito lei queste pause a effetto, non ha affrettato queste pause, non ha voluto accelerare, si è preso il suo tempo e queste pause di silenzio tra una frase e l'altra ti creano emozione, ti muovono qualcosa dentro, ok? Molto, molto brava. Anche lo sguardo, cioè è tutto perfetto, veramente bravissima. Di nuovo, di nuovo, anche questo soffiato alla fine, il vibrato, il suo vibrato è bellissimo, ok? Ha veramente tutte le carte in regola per vincere questa edizione di Amici, secondo me bravissima. E poi è un timbro veramente eccezionale, ma non è solo una questione timbrica, è questione proprio che se la gioca bene, è questione proprio che crea anche le risonanze giuste per farti percepire questo calore, questo suono così bello. Ok, brava, non è sicuramente, io credo, autodidatta, non può esserlo, secondo me ha studiato. Magari c'era già un talento incredibile, ma si sente che è una che studia, ok? Questa è la mia impressione, poi fatemi sapere anche voi nei commenti se effettivamente è così. Però io credo che non puoi cantare in questo modo se non studi, con serietà, ok? Brava. Grazie a tutti. Bello anche questo, bello anche questo arrangiamento stravolto sicuramente rispetto alla canzone originale, una canzone che abbiamo sentito veramente in mille modi, in mille salse, ok? Quindi può anche essere un po' monotona da sentire per l'ennesima volta. Il fatto che questo arrangiamento sia totalmente diverso e poi sia supportato la sua voce così bella e anche da questa scenografia veramente suggestiva ha creato qualcosa di nuovo, qualcosa di interessante e la valorizza ancora di più. Che nota ha fatto qui? Vediamo che nota ha fatto. Ok, l'ho preso a primo colpo, è un Mi bemolle 5, fatto con estrema facilità, rimanendo sempre in voce piena, ma appunto lavorando a massa sottile. Quindi le sue corde vocali sono assottigliate, ma non si sente un passaggio in falsetto, ok? Non sta facendo un falsetto qui, ok? È in voce mista, sempre, sempre e comunque. Ha un suono perfettamente collegato e guardate com'è rilassata, anche nel fare questo acuto. È rilassatissima, non sta sforzando, non sta spingendo, è bravissima. Poi con tutto questo melisma che va ad arricchire ulteriormente questo fraseggio pazzesco. Avete sentito anche qua la dinamica, come l'ha raccolta, ha, diciamo, ha sfumato la frase, vibrandola, ok? È stata bravissima. E l'ha rifatto di nuovo anche qua, l'acuto in voce piena e poi il finale sfumato e alleggerito. Vediamo che nota era, era sempre quella, credo. No, è un do diesis cinque qua, ok? Sempre in voce piena, sempre in voce piena, voce mista. Attenzione, queste sono note che non si possono fare spingendo la voce di petto verso l'alto, ok? Un uomo lo sa bene perché non le può fare assolutamente spingendo, ok? Ma anche una donna che potrebbe essere, se una donna ha una voce abbastanza acuta, può essere invogliata a raggiungere queste notte di potenza, ma io credo che non sia una soluzione adeguata perché comunque la porterebbe a sforzarsi, ad affaticarsi, anche se devi fare magari un minuto e mezzo di canzone, comunque poi quando esci da amici e devi fare il tour, devi fare una serie di concerti interi di un'ora, un'ora e mezza, due ore, non ce la fai spingendo, ok? Spingendo di petto delle note così alte. Lei lo sa bene e infatti ha lavorato sulla tecnica, quindi lei ha lavorato sulla voce mista, quindi anche qui è leggera, anche se ti arriva questa botta di potenza, che è questo suono così pieno, in realtà è sempre leggera. Bello anche il vibrato che alla fine l'ha portato verso il suono nasale, bello, bello, bello tutto, tutto, è veramente pazzesca. A me piacerebbe ascoltare altre esibizioni insieme a voi, questa me l'ero mantenuta proprio perché non l'avevo mai vista prima, è uscita tra l'altro poche ore fa e quindi sì, ci tenevo. Però se avete voglia di altre mie analisi su Martina e non solo, anche su altri concorrenti di Amici, fatemelo sapere nei commenti e vediamo se potranno diventare il tema delle prossime reaction. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi, se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Ringrazio anche lo sponsor di questo video, Super Prof, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!